Ernani è un'opera in quattro atti sul libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Vittorgo Ernani. La prima rappresentazione si svolse al Teatro Fenice di Venezia l'11 febbraio del 1844 e fu un successo. Ascoltiamo la marcia dall'opera Ernani di Giuseppe Verdi, arrangiata da Emiliano Gusperti, il corpo musicale Senaghese. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.